George Simenon è uno degli autori più prolifici del Novecento, di cui Adelphi sta ripubblicando ormai da decenni l'opera Omnia, ma non è soltanto Maigret, sono tantissimi romanzi che tanto hanno dato anche al cinema. Uno di questi, i Fantasmi del Cappellaio, è presentato a Francavilla ai lettori di Presento un Libro, da Ena Marchi, che per Adelphi cura l'opera Omnia di Simenon. Marchi, quanto è lontano e quanto è vicino invece lo stesso scrittore tra i Maigret e i non Maigret? I non Maigret Simenon diceva sempre di scriverli con grande fatica, i Maigret invece diceva di scriverli fischiettando, perché aveva un suo personaggio molto rassicurante ed era, andavano lisci. I non Maigret, cioè quelli che lui stesso chiamava i romanzi dur, cioè tosti tradurremmo in italiano, gli costavano molta fatica perché erano romanzi, quello che oggi noi chiameremo dei noir, dei romanzi psicologici, come infatti i Fantasmi del Cappellaio. Libro del quale in un'ultima raccolta di racconti avete riedito anche le prime stesure. È un libro peraltro molto attuale, ci sono dentro tanti temi nascosti, ma facilmente poi rintracciabili dal lettore senza voler spoilerare. C'è il tema di un movente quasi non movente e soprattutto anche il tema della integrazione dello straniero, di chi viene da fuori nelle piccole comunità. È vero, è vero, perché i due personaggi che letteralmente si guardano in questo romanzo sono uno, un notabile della Rochelle, siamo alla Rochelle subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e un altro è un piccolo sarto armeno che viene da una specie di profugo in realtà. Dunque da leggere, da sfogliare, da cercare ancora in libreria i Fantasmi del Cappellaio di Georges Simonon.